Buongiorno, sono Paul Serenis, l'insegnante di francese. Il corso di francese B1 si terrà ogni martedì dalle 21 alle 22.30. Questo corso richiede una buona padronanza della grammatica francese, la capacità di comprendere testi di livello medio e di sapersi esprimere in modo chiaro e argomentato. Faremo anche esercizi di comprensione orale ed elaborati scritti. A presto!